e buona prima ragazzi sono tegra con il manager sempre su sono qui in su video e sempre su tour manager anche quest'oggi andremo ad analizzare una tattica che funziona molto bene all'interno di fm22 la tattica in questione è il 433 present score che come si evince già dal nome del modulo ovviamente lo devo testare con il liverpool come sempre la prima cosa che andiamo ad analizzare in ogni mio video sono le statistiche dei calciatori dove ci vanno a dire che momu salah è il capo canoniere della rosa con 50 gol fatti e 16 assist eseguiti in 42 presenza titolare e 7 da subentrato con un xg di 39,35 che ha ottenuto il voto medio più alto è darwin nunjez con 7,89 per lui 35 presenza titolare e 3 da subentrato ben 44 gol fatti e 9 assist con 39,27 di xg in attacco ha fatto anche molto bene bobby firmino tant'è che in 28 presenza titolare 7 da subentrato ha segnato 24 gol e ha fatto 7 assist quello invece che ha ottenuto il maggior numero di assist è ovviamente trent alexander arnold con 22 assist eseguiti in 35 presenza titolare e 7 da subentrato il calciatore che ha ottenuto la migliore percentuale di passaggi completati è ancora una volta un difensore ed è sempre matip con il 96 per cento ma monsalà è stato eletto più volte uomo partita con 12 mvp jordan anderson è stato munito ben 23 volte mentre alexander arnold jota e robertson sono stati espulsi una sola volta per quanto riguarda la classifica possiamo vedere che in 38 partite ne abbiamo vinte 31 ne abbiamo impregiate 4 e ne abbiamo perse 3 facendo la bellezza di 97 gol in campionata abbiamo segnato una marea di reti tant'è che arriviamo a quota 128 e per distacco siamo nettamente il miglior attacco chiaramente segnando così tanto ed essendo un modulo spinto in fase offensiva concediamo qualche gol di troppo tant'è che ne subiamo ben 40 però la differenza reti è di 88 quindi risulta comunque modulo stabile perché abbiamo una differenza reti molto alta ovviamente essendo un modulo basato sul pressing e segnare subito appena si recupera la palla siamo bene l'undicesima squadra con il possesso palla in premier league con solamente il 49 per cento anche nelle altre competizioni facciamo molto bene tant'è che oltre ad aver vinto la premier vinciamo la champions league e l'FA cup in carabao cup purtroppo usciamo ai quarti di finale contro il city mentre in community shield perdiamo chiaramente nella finale secca arrivando al modulo in questione come vedete è parecchio spinto in fase offensiva tant'è che abbiamo la bellezza di tre attaccanti tutte e tre con centro avanti quindi se già al doppio centro avanti funzionava molto bene i passati anni quest'anno funziona un po meno il creatore di questo modulo ha voluto andare bene oltre le aspettative mettendone addirittura tre anche in centro campo abbiamo due giocatori su tre che hanno compi di attacco così come anche i terzini bassi hanno compi di attacco quindi arriviamo alla fine che abbiamo la bellezza di sette giocatori su undici con i compi di attacco se consideriamo anche il portiere sono ben otto andando con ordine però in porta abbiamo un portiere libero con i compi di attacco che ha come istruzioni quella di fare contrasti più duri sulle fasce abbiamo due esterni completi con i compi di attacco l'esterno completo di destra ha come istruzioni quella di correre più rischi e fare più pressing mentre l'esterno completo di sinistra ha come istruzioni quella di correre più rischi e fare contrasti più duri entrambi gli esterni completi chiaramente ve lo ripeto sono giocatori che tendono a dialogare molto più spesso con i propri compagni di squadra in più quando vanno a sovrapporsi si fermeranno nella tre quarti offensiva per poi rientrare centralmente abbiamo doppio difensore che imposta con i compi di attacco perché appena si recupera palla bisogna subito andare a fare gol entrambi hanno come istruzioni quali di stare più larghi e fare contrasti più duri il vertice basso che tende a dare equilibrio è un mediano o centrocampista difensivo chiamatelo come volete con i compiti di supporto le istruzioni che ha sono quelle di fare passaggi corti tirare di meno fare più pressing contrasti più duri e marcatura stretta quindi viene utilizzato chiaramente per fare il filtro recuperare subito i palloni e giocarla corta perché tendenzialmente il mediano non ha i piedi buoni per impostare le due mezze ali sono un regista avanzato con il compito d'attacco e una mezzala con il compito d'attacco il regista avanzato come dice già la parola stessa è il faro del centrocampo che però al posto di abbassarsi tende ad alzarsi e quindi fare gioco più o meno una tre quarti offensiva come istruzioni aggiuntive a quelle di fare contrasti più duri e marcatura stretta quindi richiediamo qualcosina in fase difensiva la mezza attacco chiaramente tende a sovrapporsi per vie centrali e andare a parlare di rigore le istruzioni che ha sono quelle di fare passaggi corti dribbare di più tirare di meno fare contrasti più duri e marcatura stretta la davanti scateniamo l'inferno con triplo centravanti i due centravanti che giocano esterni diciamo hanno libertà di movimento quello centrale invece ha come istruzioni quali di correre più rischi fare contrasti più duri e marcatura stretta quindi chiediamo qualcosina in più in fase difensiva come mentalità come se non bastasse abbiamo molto offensiva in fase non possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco larga lo stile dei passaggi ovviamente è quello di farli corti con un ritmo di gioco altissimo si fanno cross bassi e portano per un'area di rigore si vanno a cercare calci piazzati e si dice ai propri calciatori di concentrarsi sulle istruzioni date quindi gli si chiede più disciplina il mettere qui più disciplina in un modulo a 4 forse non è la scelta migliore tendenzialmente più disciplina lo si mette nei moduli a 3 dietro proprio perché lo schema tattico è molto più impostato rispetto a una difesa 4 in fase di transizione abbiamo ovviamente fare pressing a tutto campo e contropiede il portiere la va a smistare a tutti i difensori in fase non possesso abbiamo una linea di ingaggio molto più alta con una difensiva più alta che fa il fuorigioco l'ampiezza difensiva è standard si marca più stretti si fa pressing estremo si impediscono i passaggi corri del portiere e si fanno contrasti aggressivi la disposizione tattica possiamo vedere che rimane un 433 vediamo che i due difensori che impostano sono perfettamente in linea il terzino di sinistra rimane un po più basso del terzino di destra probabilmente perché la zona da colpire era più quella di destra e lo si vede anche dal centrocampo nel senso che abbiamo il mediano che ovviamente tende a rimanere più basso il registro avanzato anche in questo caso rimane molto vicino al mediano mentre la mezzala è già staccata per andare a far male in fase offensiva là davanti abbiamo la linea 3 perfetta con il triplo centro avanti tutte e tre in linea vediamo che nonostante le istruzioni siano quelle di rimanere molto alti essendoci stato pericolo in fase difensiva la squadra si è abbassata molto di più rispetto al previsto arriviamo ora al calendario con agosto che parte con la sconfitta in community shield poi per il resto il campionato fila liscio a settembre così come ottobre abbiamo tutte vittorie a novembre abbiamo tutte vittorie tranne l'ultima in premier che è un pareggio a dicembre vinte tutte tranne due pareggi uno in premier e uno in champions e la sconfitta ai rigori ai quarti di finale di Carabao Cup contro il city poi abbiamo il filotto di gennaio febbraio marzo passati senza alcuna sconfitta o pareggio ad aprile vinciamo tutte le partite tranne tre pareggi di cui due in premier e uno in champions mentre contro l'arsenal in premier perdiamo la partita a maggio abbiamo ben 5 vittorie e due sconfitte in premier con il campionato ormai chiuso il nostro cammino in FA Cup parte al terzo turno dove superiamo lo sheffield per un 6 a 0 al quarto turno andiamo a superare lo swansea per 5 a 2 al quinto turno battiamo l'arsenal per 3 a 0 ai quarti di finale superiamo il leeds per 5 a 2 in semifinale battiamo il celsi per 5 a 1 mentre in finale battiamo lo united per 3 a 2 in Carabao Cup invece partiamo al terzo turno contro il bonus e vinciamo per solamente 1 a 0 al quarto turno superiamo lo sheffield per 5 a 2 ai quarti di finale purtroppo usciamo ai rigori contro il city la champions league invece parte nel gruppo c molto abbordabile tant'è che abbiamo red bull di salisburgo porto e copenhagen finiamo il girone con 16 punti quindi 5 vittorie un pareggio 20 gol fatti e 5 subiti con una differenza reti di 15 agli ottavi di finale poi ci troviamo subito il barcellona e superiamo per un 7 a 1 complessivo i catalani ai quarti di finale altro avversario tosto tant'è che ci troviamo il city di guardiola e lo superiamo per un 5 a 3 complessivo in semifinale non abbassiamo la guardia nonostante becchiamo il real madrid e passiamo per un 7 a 1 complessivo in finale superiamo per 4 a 1 il pari san germain e alziamo la coppa in un cammino veramente arduo tant'è che abbiamo affrontato tutte le favorite tranne il bayern monaco come si vinceva già dal campionato il minimo comune denominatore è il segnare tantissimi gol in ogni parita cioè se andiamo ad analizzare 7 gol 5 gol 4 5 4 4 3 4 3 6 5 4 5 5 e così via proprio facciamo una catarama di gol in ogni partita a proposito di tanti gol fatti vediamo il 5 a 2 rifilato a Leeds ai quarti di finale di FA Cup nel primo quarto d'ora passiamo in vantaggio prima con Salah che lavava a scaricare ad Arnold che la mette in mezzo Jones trova Salah e segna poi troviamo il secondo gol sempre in primo quarto d'ora con lancio lungo di Alisson dinamica che funziona perfettamente su questo gioco con Firmino che va a scavalcare l'ultimo difensore poi Leeds prova la reazione da calcio d'angolo con Sinisterra che si trova sotto porta e segna noi andiamo a segnare il terzo gol da calcio d'angolo con Van Dijk quindi rispondiamo al gol del Leeds il quarto gol Luis Diaz lancia profondità Firmino davanti al portiere segna il Leeds trova il secondo gol nei minuti finali con Harrison che va lungo la fascia cross in mezzo Bamford mi deve segnare ogni volta che lo affronto il quinto gol nostro arriva all'ottantottesimo con Jones che recupera palla Luis Diaz viene servito molto bene e segna per vedere un po' di gol subiti vediamo l'Aston Villa che ci rifila 4 gol ovviamente ho tutta la squadra B con Jarosch in porta, Olufunga, Vandenberg, Arroyo e così via l'Aston Villa ci mette un bel po' a segnare il primo gol tant'è che lo trova nel secondo tempo a 66esimo con Tales Magno che viene servito molto bene in profondità da lì in poi si scioglie con Gilbert che sulla fascia destra va a crossarla in mezzo Inks riesce a colpire un Jarosch non perfetto il terzo gol sempre dalla fascia di destra Tales Magno la scarica a Gilbert palla in mezzo McEgan dalla distanza trova la botta vincente l'ultimo gol al novantesimo Inks in mezzo la mette per Samson che va a segnare gli ultimi lights che vi mostro sono il 5-3 contro il Brighton così vediamo altri gol fatti e altri subiti Passiamo in vantaggio noi con March che perde ingenuamente palla Jones subito in avanti sfrutta il buco lasciato per via centrali e segna poi Brighton va a trovare il gol del pareggio con March che la scarica a Lamptey lanciato in profondità March si fa perdonare dall'errore fatto prima il down del Brighton Zekiri va ancora lungo la fascia destra che è il punto critico nostro March in mezzo McAllister sottoporta segna lasciato completamente da solo poi va sopra di ben due gol il Brighton con Kamara che lancia in profondità Trossard e supera così Alisson poi c'è la nostra reazione nel secondo tempo con Zimikas che dalla fascia sinistra la mette in mezzo sfortunati qua i difensori del Brighton che non riescono a lanciarla via poi da pala inattiva Virgil van Dijk si va a trovare ancora pronto di testa Gomez mette pressione guardate quanto sono schiacciati quelli del Brighton Henderson la va a mettere a rimorchio Thiago dagli 11 metri non sbaglia l'ultimo gol al 91esimo Henderson in mezzo van Dijk che è rimasto lì in attacco trova il gol quindi come avete visto è una squadra che quando recupera palla non ci mette nulla a segnare fa 1-2 passaggi massimo 3 ed è subito in porta in più tende a schiacciare veramente tanto gli avversari nella propria area di rigore ovviamente quando non si recupera subito palla dietro si è molto scoperti quindi giocando un calcio molto propositivo bisogna saper accettare che si concederanno tanti spazi che come avete visto gli avversari se riescono sfruttano molto bene e si trovano in superiorità numerica con ciò questo era il 4-3-3 press and score io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like commentate e condividete e non ci vediamo il prossimo video non metto il like e bella raga